La prima montagna, sotto l'ombra di un bel po' Che passeranno, oh bella ciao, bella ciao L'ho organizzato le celebrazioni del 25 aprile, ovviamente in forma ridotta e previa autorizzazione Tuttavia bisogna registrare che in particolare al momento della deposizione della corona ai caduti del fratello posta all'incrocio con via Pietralata, c'erano diverse decine di persone ad assistere Si specifica che nessuno è stato sanzionato o denunciato, il tutto è avvenuto nell'arco di un uomo Grazie Grazie Oh, ammazzate, ma che cosa stai facendo? Non ammazzate queste persone Oh Ma ammazzate la gente sulla strada, non va bene Ma non si può ammazzare la gente Non si può ammazzare la gente Oh, ammazzate la gente Basta Perchè non l'avete bruttato? Perchè non l'avete bruttato? Perchè non l'avete bruttato? Ma ammazza la gente sulla strada, non va bene. Ma è possibile una cosa del genere? Hai filmato Gianni? Si, tu. E adesso? Che stai facendo con te dentro? Cosa fate? Stai pericolo? Mi sono bloccato in Corso Durcelli, perché c'è la polizia. Ci siamo bloccati qua. E, arrivo fra... Non lo so quando finisce, guarda si gritano qua, c'è la gente Buono, non posso adesso, sono bloccato nella polizia C'è un problema qui, sui corsi vercelli sono io Non lo so quando mi fai uscire di qua Ciao, 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 non posso parlare C'è da nessuno che ti riprese Non mi dovete parlare troppo Ciao Ciao Non mi dovete parlare troppo Un paese democratico Qua la polizia ti ammazza, vai via da lì Ma quanto ti ammazza la polizia in strada? E il nostro paese fi moare, ragazzi moare perché non è suportare in un cacosto Il sol dei abusi nella allo caccia Non ti puoi avicina, non ti puoi avicina, non ti puoi avicina.